Musica Eccoci di nuovo qui, una nuova puntata per questa settimana particolare di avvicinamento ai playoff maschili e femminili. Oggi ci concentreremo sul campo femminile perché si inizia anche qui a fare sul serio post-season playoff anche per le donne. Ma prima di farvi ascoltare ovviamente le voci dei protagonisti che presenteranno queste semifinali Scudetto, voglio farvi vedere i risultati dell'ultima giornata di campionato giocata lo scorso fine settimana, partendo ovviamente dal girone preliminary round Scudetto. Perché? Perché c'è stato un assaggio nella sesta e ultima giornata di quelli che saranno proprio i playoff. La partita tra Plebiscito Padova e CSS Verona è finita 11-6. Vittoria invece per l'assist Roma per 10-5 sull'equipo orizzonte, classifica che comunque rimane invariata, non era indispensabile una vittoria a nessuna di queste squadre per cambiare la propria posizione in classifica, perciò sarà sfida proprio Plebiscito Padova-Verona-equipo orizzonte-Roma nei playoff. Tutto definito anche nel final round perché? Perché si è giocata la sesta e ultima giornata la vittoria di Bogliasco su Florenzia per 7-4. La squadra di Alexandra Cotti comunque aveva già blindato il quinto posto e quindi il primo posto del girone. Pallanotto Trieste vince ad Ancona 9-7, firma anche la prima vittoria in questo girone. Si è recuperata anche la partita, lo vedete il risultato tra Bogliasco e Trieste, perciò è concluso il girone final round, concluso il campionato per queste quattro squadre che potranno concentrarsi da qui in avanti per costruire la prossima stagione. È arrivata l'ufficialità anche per i playoff femminili da parte della federazione, si inizia venerdì 14 maggio con le semifinali, semifinali al meglio delle tre partite, l'abbiamo detto Padova contro CSS Verona, Equipo Orizzonte contro SIS Roma. Le finali invece saranno al meglio dei cinque incontri a partire dal 28 di maggio. Ci sarà anche una finale ovviamente terzo posto, la finale che decreterà la squadra che potrà andare a giocarsi l'Euroleague l'anno prossimo. La gara è secca per il terzo posto il 28 di maggio. Prima semifinale scudetto il derby tra Plebiscito Padova e CSS Verona, proprio in virtù di questo abbiamo disturbato dei protagonisti di questa sfida, il capitano Laura Teani di Plebiscito Padova e il coach di CSS Verona, Paolo Zizza. Ci hanno parlato, ci hanno raccontato della loro semifinale, di come si avvicineranno a questa semifinale, di come sarà la gara, questo playoff che è un derby veneto tra Padova e Verona e le sensazioni alla vigilia. Ascoltate. Molto entusiaste, non vediamo proprio l'ora perché comunque sappiamo tutti che è la parte più bella del campionato. Tutto quello che è stato fatto fino adesso, che è andato bene, che è andato male, si azzera. Adesso è come se cominciasse una nuova fase, tutto da scrivere ed è bello. Poi è bella la formula perché il playoff è al meglio delle tre e poi la finale è al meglio delle cinque, secondo me è molto più gratificante e più divertente da giocare. Quindi abbiamo voglia. Aspetto che siano delle partite molto difficili e dove le partite giocate fino ad ora, che con Verona sono state veramente tanto, non contano niente, non vogliono dire proprio niente. e dipenderà da come entriamo in acqua. È un avversario comunque tosto perché ha elementi singoli, molto molto buoni, lo sappiamo benissimo. E sicuramente loro vogliono far bene, vogliono provare a batterci giustamente, come è giusto che sia a questo punto. E noi, da un'altra parte, sappiamo che dovremo fare la nostra pallanuoto, dovremo entrare molto concentrate, non prendere niente sotto gamba o pensare che sia facile perché non lo sarà sicuramente. Sarà una battaglia alla volta e saranno battaglie davvero impegnative. Non si deve guardare avanti perché non si sa cosa ci sarà avanti. Quindi, a parte la scramanzia, però è giusto non pensare avanti perché devono essere giocate. Non c'è niente di scontato. Secondo me loro sono una squadra giovane con tanto entusiasmo che alla prima volta penso che arrivino a una semifinale scudetto e vorranno sicuramente far bene. E giochiano, secondo me, con spensieratezza perché comunque non hanno niente da perdere e hanno solo da guadagnarci e questo può essere sicuramente un'arma a loro favore, senza poi entrare nei vari dettagli delle singole giocatrici che sappiano benissimo il loro valore. Dall'altra parte, noi penso che comunque siamo un gruppo che è insieme da parecchio e quindi conosciamo i nostri meccanismi e se vogliamo ci vengono molto bene. Quindi penso che il fatto che la squadra sia compatta possa essere un nostro vantaggio. E sicuramente con la voglia di riscatto, con la voglia di giocarci e provare ad arrivare a questo trofeo che per noi è importantissimo e imparando anche molto dagli ostacoli che abbiamo incontrato, che possono essere, come hai detto tu, l'Europa e la Coppa Italia. Quindi sapendo di non dover ripetere determinati errori e penso che comunque queste batoste servono sempre, cioè per arrivare poi a vincere, se sei bravo riesci a imparare molto. Poi il fatto della piscina, del Covid, che comunque non ha colpito solo noi, non devono essere scusanti, anche perché sappiamo che comunque se vuoi essere una grande squadra lo sei dal momento in cui riesci ad adattarti a qualsiasi situazione e a qualsiasi imprevisto. Quindi non ci dobbiamo assolutamente appigliare a nessun alibi. Una cosa che abbiamo visto nei momenti che non sono andati come volevamo è la nostra altalena. In una stessa partita riuscivamo a essere due squadre completamente diverse. Quella che va a mille e trova il passaggio giusto, la difesa giusta è quella che invece si perde. Ci siamo ritrovati tutte in una stanza, abbiamo detto ok, capiamo il perché ci succede per fare in modo che non risucceda, perché dobbiamo comunque riuscire a rimanere sempre costanti. Quindi penso che sì, ci sia servito sia per crescere di gioco, sia per affrontarci, guardarci negli occhi, dirci che cosa dobbiamo migliorare e gli obiettivi che abbiamo. Mantenere la lucidità dal primo all'ultimo minuto, sia che le cose vadano bene, perché anche quando vanno bene a volte ci mettiamo troppo a foga quando non ce n'è bisogno e a maggior ragione quando le cose non vanno bene, rimanere lucidi e continuare a fare le cose facili senza inventarci niente, sapendo che comunque non è che puoi smettere di saper giocare da un minuto all'altro. Quindi di rimanere compatte e sapere che se vogliamo superare un momento difficile lo possiamo fare solo insieme, non c'è nessuna da sola che lo può fare, ma guardandoci negli occhi possiamo darci la carica per superare qualsiasi momento. Ce lo siamo dette noi, ce l'ha detto Stefano, penso che sia la cosa più sbagliata che una squadra possa fare, quella di sotto voglio usare un'altra. E penso che in realtà fa piacere sentirsi dire sei la squadra favorita, ma io in realtà non lo credo, nel senso che è vero che possiamo vincere ma così come lo può vincere qualsiasi di queste quattro squadre perché comunque abbiamo visto nei vari torni che abbiamo fatto giocandoci contro che puoi vincere di tanto, puoi perdere di uno, puoi perdere di tanto. Quindi se siamo favorite ce lo dobbiamo poi conquistare nel campo senza sottovalutare veramente niente e nessuno e iniziando adesso pensare alla semifinale. E poi speriamo di pensare poi alla finale, una cosa alla volta. È proprio più bello il campionato quando comunque le squadre sono più equilibrate sia per noi, perché comunque è molto più bello giocarti le partite combattute per quanto puoi sempre vincere, quindi anche se vinci di cinque ti fa piacere però giocare le partite quelle che vanno punto a punto sono veramente molto più stimolanti e comunque penso che sia anche poi più bello per il pubblico perché il non sapere come le cose possono andare rende tutto più bello. Ora è quello giusto, stiamo lavorando consapevoli chiaramente della difficoltà della partita, però questo è il bello quando ci si confronta poi dopo nella parte finale e soprattutto attraverso i playoff sono quelle partite stimolanti che tante volte ti fanno tirare fuori anche qualcosa in più che deve esserci nell'affrontare queste gare per cui siamo consapevoli della difficoltà e del valore chiaramente del Padova che non te le nascondono, però siamo vogliosi e ansiosi di cominciare questa parte finale del campionato. Sicuramente dobbiamo cercare di limitare quanto di più gli errori commessi in queste gare che abbiamo effettuato quest'ultima parte del campionato dal mio arrivo vanno lemate un po' di situazioni e non far sì che si regali agli avversari strada facile. Lo abbiamo commesso in queste partite che abbiamo fatto da finale e adesso mi auguro che questo ci sia servito di insegnamento e cercare di fare quanto meno errori possibili rimanere aggrappati agli avversari e fargli pesare chiaramente la palla in mano. La caratteristica che deve avere una squadra è quella di grande compattezza su tutte le giocatrici, chiaramente quella che ripeto che dobbiamo sicuramente fare attenzione e migliorare il tirare fuori sotto l'aspetto chiaramente anche caratteriale, soprattutto la parte offensiva, ho visto alcune giocatrici un po' timorose invece va affrontato in maniera completamente diversa. Quindi mi auguro che questo, diciamo, un arrivo di playoff ci faccia prendere qualche responsabilità in più e ci possa far sì che ci giochiamo chiaramente alle partite in maniera completamente diversa. Anzi, questo è l'invito principale. Diciamo che questa pressione non l'abbiamo avuta nemmeno nelle ultime quattro partite avute, però questa pressione ci deve essere anche nel giusto equilibrio perché non è che poi dovremo andare lì a fare soltanto la comparsa. Anzi, l'invito è proprio quello, nel senso non tante pressioni, ma questa non pressione deve poi farci scattare dentro il cuore, quella grinta e quella determinazione che i playoff pretendono. C'è se essere una dimostrato di avere delle ottime caratteristiche, delle ottime qualità, però chiaramente in queste partite poi devono essere tirate fuori queste qualità e accorparle tutte quante insieme e giocarsene dal primo all'ultimo o dal secondo. Non possiamo avere dei buchi durante l'arco della gara. Questo dobbiamo farlo già a partire dalla prima partita di semifinale, poi dopo vediamo quello che succederà. Ma l'atteggiamento deve essere quello di ogni partita di una finale, ma soprattutto perché sono quelle partite che ti insegnano tante cose e ti fanno crescere. Quindi ti fanno capire a me come allenatore, a loro come giocateci, quali sono le attitudini e le caratteristiche se si vuole arrivare lontane. Uno alle vigili delle partite ci spera sempre nelle situazioni. Poi nel mondo della Palanotto conosciamo quando i valori sono differenti e molto molto difficile, ma questo non vuol dire regalare la partita agli avversari, questo vuol dire entrare in acqua determinate, vogliose, grintose e rendere vita difficile a chi è più forte di te. Poi si vedrà alla fine. L'altra semifinale, quella tra Equipo Orizzonte e SIS Roma, ce la presentano i due allenatori delle due squadre, Martina Miceli e Marco Capanna, due squadre che anche loro si sono incontrate molto in questa finale di campionato, due squadre che si conoscono e i risultati sono stati forse diversi, un po' più in bilico. Ascoltiamo le loro parole. Arriva sicuramente la badosta di sabato scorso, è stato un passo importante, ben venga in un momento del genere, perché può essere un bel campanello d'allarme e come tale lo stiamo trattando. Quando succedono queste cose sono una serie di componenti, però sicuramente c'è stata una componente di rilassamento, nel senso che sicuramente la posta in gioco non era tanta e probabilmente mi piace pensare che le mie sono atlete da dentro o fuori, che comunque è una cosa positiva e quindi sarà un approccio completamente diverso alla gara. Servirà essere noi stesse, quindi giocare come sappiamo, crederci principalmente, imporre il nostro gioco. La Roma è una squadra che è cresciuta tanto, come hai detto te, è una squadra che cerca sempre di imporre il proprio ritmo ed è quello che cercheremo di fare noi questa volta. Non c'è una giocatrice, hanno varie giocatrici di altissimo livello, hanno tante giocatrici che mi piacciono molto, però perché magari non sono giocatrici blasonate, ma sono giocatrici che non si tirano mai indietro, per cui secondo me la Roma ha fatto di questo la sua forza e per cui sicuramente dobbiamo attenzionare le giocatrici più esperte, però quello che poi dobbiamo attenzionare è fare quello che facciamo e farlo nel migliore dei modi, indipendentemente da quale giocatrice c'è davanti, perché poi la Roma ha dimostrato che sono proprio le seconde linee che poi fanno la differenza spesso e volentieri. Quest'anno il fatto di guardarci in faccia, chiuderci dentro una stanza, è sicuramente stato ed è tuttora fondamentale, perché comunque è la nostra difficoltà più grande durante quest'anno e sono state proprio il confronto con noi stesse, per cui il fatto di non essere all'altezza delle nostre aspettative, poi onore agli avversari che quando ci hanno battuto hanno giocato meglio di noi, sono stati più bravi di noi, ma è stata sempre palese questa sensazione di non aver dato il massimo, ma a volte non aver dato neanche la sufficienza, per cui questo è quello su cui abbiamo lavorato più di tutti, questo è quello su cui stiamo lavorando più di tutti, perché come ho detto in Coppa Italia, quando abbiamo vinto, non è che abbiamo vinto ed è finito il percorso, siamo in un percorso, siamo in un percorso, un obiettivo era la Coppa Italia, ma l'obiettivo ultimo e principale è lo scudetto, per cui è un percorso che è iniziato dopo Trieste e si concluderà, speriamo, il 9 giugno. Conosce benissimo i propri limiti e forse a volte si focalizza proprio solo su quelli e non sulle cose che in realtà facciamo bene, questo è il problema ogni tanto, ci focalizziamo, siamo sempre troppo esigenti con noi stessi, a volte troppo critiche con noi stessi, ma quello penso che sia mia la responsabilità, perché io lo sono come persona, per cui probabilmente lo trasmetto alla squadra. Io sono una persona molto esigente con me stessa e con chi mi sta attorno e sono anche rompiscatole, sono maniacale e purtroppo a volte per forza di cose poi la squadra vive la personalità dell'allenatore. L'abbiamo vissuto come un gradino, un gradino come per dire stiamo sulla strada giusta, perché noi eravamo consapevoli che durante la Coppa Italia stavamo nel centro di questo percorso, ce lo siamo detti prima, ce lo siamo detti durante la Coppa Italia e ce lo siamo detti anche dopo. La vittoria in Coppa Italia è stata una ok, siamo sulla strada giusta, andiamo avanti così, poi l'ho detto proprio subito dopo la Coppa Italia, è un percorso dove uno fa qualche gradino in più e poi dietro l'angolo c'è un burrone, come è stata la partita di sabato, però è un percorso dove siamo ben coscienti dell'obiettivo e siamo ben coscienti che vogliamo arrivare fino al fondo. È difficile come è giusto che sia, come ogni anno, perché due anni fa quando abbiamo vinto non eravamo arrivate prime in regular season, abbiamo avuto la semifinale contro la squadra che ci aveva battuto dandoci una batosta incredibile l'anno precedente, per cui assolutamente non è mai facile nulla. Quando abbiamo perso a Firenze eravamo arrivati 12 punti avanti abbiamo perso poi la finale Scudetto, per cui non è mai facile, non è mai scontato, nessuno ti regala niente, il bello dello sport è questo, va sudato ogni cosa e probabilmente non avere ruolo da favoriti, anzi può essere forse una cosa positiva in questo momento, ma è inutile che ci prendiamo in giro dicendo che qualcun altro è favorito. Secondo me ognuna delle tre squadre, non me ne voglia il Verona, ma forse è un passetto indietro, ma ognuna delle tre squadre ha tutte le carte in regola per diventare campioni d'Italia, per cui come era due anni fa semifinale col Padova e finale con la Roma, tutte e due sudatissime, è giusto che sia così quest'anno. Che presto aprono le piscine al pubblico principalmente, è un gran peccato, finalmente abbiamo i playoff, finalmente abbiamo un bel vedere delle finali, già dalle semifinali così entusiasmanti, è un vero peccato che non ci siano le piscine piene, perché questo era veramente un anno ottimo per fare quattro, cinque partite in casa, con i playoff, anche tutta questa fase preliminare, erano tutte partite da gran pienone, da tutto esaurito, è un peccato, speriamo che l'anno prossimo potremmo avere il pubblico in piscina, quest'anno è andata così, penso che già siamo dei fortunati che stiamo giocando, io lo dico tutti i giorni alle ragazze, siamo delle fortunate che stiamo giocando, poi siamo delle strafortunate che stiamo facendo il periodo più bello dell'anno, di qualsiasi sportivo, quello di andarti a giocare qualcosa di veramente importante, per cui questo deve essere lo spirito in cui affrontare queste partite. La partita non poteva avere un'altra valenza di classifica, perché evidentemente il percorso del campionato aveva portato a quello, però tutte le partite possono essere utili, soprattutto adesso che c'è poca possibilità di confrontarsi con gli avversari, se a cinque giorni da una semifinale, sulle tre gare, è la possibilità di giocare contro una squadra che comunque ha affrontato tante volte, e prenderci le misure, prendere confidenza, dare un segnale più che altro psicologico alla serie, per te e per gli avversari, è il massimo che puoi fare, eravamo molto determinati, convinti di poterlo fare, e quindi niente, sicuramente dovevamo mettere il piede nel playoff, anche come mentalità, e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, sapendo che poi ogni volta si riazzerrerà tutto, quindi si riazzerrerà tutto per venerdì, si riazzerrerà tutto per martedì dopo, e per un'eventuale gara 3. Io penso che abbiamo fatto tutto il percorso necessario, utile e giusto per arrivare a questa finale più cresciuti possibili, più convinti possibili, avendo fatto tutti i passaggi con le cicatrici giuste, siamo arrivati in fondo a tutte le competizioni, e questo non era scontato, abbiamo comunque affrontato tutta la stagione, senza una ragazza che era importante nel nostro scacchiere, senza mai far pesare quello, perché non mi sarei mai permesso, perché la mentalità non deve essere quella, la nostra, bisogna far bene con chi ha, e perché sarebbe stata una mancanza di rispetto per chi invece aveva l'occasione di essere ancora più protagonista, di toccare palloni importanti, e dimostrarsi che comunque in qualsiasi condizione noi eravamo capaci di fare bene. Però ci ha fatto crescere maggiormente, nel momento che poi sei cresciuto, hai fatto tutti i passaggi, e anche tu finalmente sei al completo, forse riesci a ottimizzare tutto e a sentirti pronto per quello che è un momento decisivo, perché comunque noi vogliamo vincere lo Scudetto, quindi come le altre squadre abbiamo le stesse ambizioni e io credo anche le stesse possibilità. Voi come state però? Come arrivate a questi play-off? Molto bene, molto bene. Io non penso che poi, soprattutto in un anno così particolare, la condizione fisica sia quella proprio solita, solita da libro dove ci arrivi con carichi, scarichi particolari. Hai fatto tante partite, hai fatto tante pause, ci sono successe tante cose in mezzo, ci sono tante variabili, ma sicuramente la squadra ha sfruttato i momenti di difficoltà, ha sempre messo un pezzo in più, si allena con determinazione, si allena con curiosità, con attenzione. Lo spirito del gruppo è molto solido, loro sono capaci di aiutarsi e sono sicuro anche di non sciogliersi davanti a nulla. C'è la giusta fantasia, c'è la giusta volontà di andare a seguire un sogno possibile. Siamo consapevoli che l'occasione c'è e quando ce l'hai devi approfittarne a prescindere da quanto puoi essere pronto o non pronto. Abbiamo l'occasione, siamo sufficientemente pronti per approfittarne e non vogliamo alibi per non farlo. Bisognerà evitare chiaramente il numero di errori che nella partita ci sono, dove farà la differenza l'accettazione dell'errore, dove farà la differenza se l'errore comunque avrà con sacrificio una copertura che non peserà su gol presi, facili, soprattutto a uomini pari. Non credo e non voglio che siano dipendenti da un episodio e quindi la tenuta mentale, diciamo, nella serie e nella singola partita, al primo all'ultimo istante, sarà fondamentale, però non bisogna avere neanche la frenesia di volere essere in finale, di volere vincere lo studetto, di volere essere a gara 2 avendo vinto gara 1. Oggi c'è allenamento e dobbiamo pensare a quello che possiamo ottimizzare in allenamento, allo spirito molto particolare che possiamo avere durante l'allenamento, durante la singola correzione in allenamento e così di giorno in giorno. Poi la partita comincerà venerdì e quando comincerà la partita sarà un pezzo, il pezzo importante di questo momento. Però non bisogna avere frenesia, non bisogna avere agitazione, bisogna avere solo molta concentrazione soprattutto sul gioco e sulle situazioni di gioco. Loro sono una squadra solida di esperienza, con meccanismi consolidati da anni, quindi sicuramente nel momento che vogliono fare forte o reagire trovano meccanismi ormai radicati in loro con qualità alta e quindi sicuramente noi dobbiamo sapere che bisogna essere continui nell'avere l'idea di limitare il loro gioco e imporre il nostro. Sicuramente anche per le differenze di squadra e perché in queste partite può essere un fattore anche per non risaltare alla loro qualità l'intensità che possiamo tenere noi per caratteristiche che abbiamo è una cosa che mi dà fiducia che può essere una delle chiavi per vincere poi e approdare alla finale. Prima di salutarci vorrei volare insieme a voi a Bucharest perché lì c'è Matilde Risso il portiere del Rapid Bucharest hanno vinto il campionato proprio loro la sua squadra al primo anno in questa città una nuova esperienza nuovi stimoli allora abbiamo abbiamo chiesto a lei proprio di raccontarci come ha vissuto questo anno come ha vissuto anche la vittoria hanno festeggiato davvero moltissimo e quindi insomma oltre che i complimenti le abbiamo chiesto anche com'è giocare a Bucharest quale cose le fanno bene mi senti? sì quale cose le fanno bene allora abbiamo vinto come? innanzitutto l'aver vinto lo scorso torneo tutto con i 12 punti è stato fondamentale e perché quindi noi alla fine avevamo un distacco di 6 punti dalla seconda e ci bastavano due vittorie sostanzialmente abbiamo vinto la prima con la Dinamo di un gol e quindi poi giovedì martedì mercoledì pausa giovedì partita con la con lo Steaua che era fondamentale vinta 14 a 10 ma Andre ho perso tipo 10 anni di vita avevo il cuore no ora c'è bellissimo sono proprio contenta perché sai quelle partite che poi il giorno dopo abbiamo giocato di nuovo con la Dinamo mi ha fatto giocare giustamente le Junior perché non hanno mai avuto modo di giocare e comunque hanno giocato bene hanno pareggiato e poi domenica abbiamo giocato di nuovo con lo Steaua e abbiamo di nuovo vinto anche se è stata una partita un po' strana perché comunque noi eravamo già campioni giovedì cioè mancava la festa i festeggiamenti però giustamente nessuno è stata in acqua per perdere però per me la partita di giovedì è stata giovedì non mi passava più non so mio papà mi ha chiamato ma mi ha detto ma che faccia hai però è stato è stato emozionante è mancato il pubblico in effetti perché secondo me poteva dare quella mano in più però è stato è stato bellissimo e poi domenica si è festeggiato molto bene molto bene è parecchio però sono contenta perché alla fine era l'obiettivo e è vero partivamo con sei punti di vantaggio ma non era così scontato anche perché essendo solo tre squadre che comunque si equivalgono perché ne abbiamo avuto proprio la prova noi abbiamo giocato con la Dinamo e l'abbiamo battuta il giorno dopo la Dinamo ha giocato con lo Stiawe e l'ha battuto quindi siamo tutte lì la cosa di questo campionato lo dicevo sempre a mio padre parlando è che siamo tutte e tre sullo stesso livello è come giocare una Final 3 e quindi è quello che è e poi quattro pariti di fila cioè non è che dici sì ho sbagliato una parita domenica ma me li faccio la settimana dopo qua nei quattro e devi azzeccarle però sai che ancora sto metabolizzando perché per me è sono codita per tutte però per me è anche una vittoria mia personale comunque di essere venuta qua in quest'anno praticamente all'oscuro di tutto per me vale un po' doppio poi abbiamo già parlato quindi lo sai l'anno scorso ci siamo tutti fermati quindi riprendere arrivare anche a vincere mi sono detta l'anno scorso a distanza di un anno avrei mai detto che sarei venuta in Romania col covid a vincere lo scudetto va bene il mio l'ho fatto per quest'anno quindi sono soddisfatta diciamo che siamo sempre noi due alla fine e sai non diventa anche un po' non noioso però l'avevo anche già detto questo che poi ti inizia a conoscere anche troppo bene quindi alla fine vai a fare i gol per ascuzia bravura non è facile però anche quello è divertente per dirti lo scorso torneo avevo parato tutti i rigori a sto giro qua anche loro se o me mi hanno studiato e mi hanno fregato due o tre volte però è divertente perché loro ho detto non lo posso devo cambiare questa strategia perché ormai mi conoscono sono un po' da lontano però mi chiedo devo dirti anche che mi sono allenata per un mese e non me l'hanno fregato a sto giro da lontano mi sono allenata ho detto no non voglio prendere tutti da lontano ma ti le dai oltre alla fine di questa esperienza ti posso dire sono presciuta parantisticamente umanamente c'è stato un cambio parantisticamente comunque ho giocato in una realtà che non è quella italiana e ho visto comunque un nuovo modo di giocare delle nuove partite nuove avversarie e umanamente vabbè c'è tutto il contorno di vita che sai non è nove mesi fuori casa in un posto dove è nuovo diciamo che ho fatto un bel training anche lì però sono proprio contenta poi quei bambini sono tornata che mi sono messa a piangere mi hanno aspettato alla porta e così io ovviamente in lacrime perché i pianti in questi giorni sono stati frequenti e con loro va benissimo anzi si sono arrabbiati perché la settimana delle partite io non vengo ad allenarli ma perché voglio concentrarmi poi comunque spostarmi mi hanno tempestato di chiamate ma dove sei perché non vieni ma perché stamattina dovevo venire ma alla fine ho dovuto fare una cosa al club dove nostro e non sono venuta mi hanno chiamato ma noi ti aspettavamo che entrivi in acqua con noi e domani vieni perché domani vengo solo per te quindi è un rapporto di la cosa bella è che mi rispettano però allo stesso tempo c'è ancora io non sono hai capito una di quelle che si mette giù così io gli dico ragazzi intiamo in acqua ci divertiamo bisogna però che ci alleniamo e loro ormai dal momento che mi hanno visto come alleno dopo da ottobre soprattutto i miei ragazzi quelli di 15-16 anni sono i miei preferiti poi anche le ragazzine più piccoline ma loro sono proprio uno mi fa oggi ma io come faccio a settembre fino a settembre senza di te e io io sto bene ma non ti vedo più almeno mi riposo un po' perché mi fa disperare se parla di continuo Matti 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 ho cambiato nome mi chiamo più Matti cioè no no ora questa settimana sto qua per loro che in teoria ho finito però sto qua per loro una settimana e mezzo ce lo meritano la festa tra virgolette finale lo scorso torneo perché lì siamo state proprio squadra ed è lì che abbiamo vinto io non sono non faccio mai previsioni niente non mi piace vado molto con i piedi di piumo anche prima di questa parita avevo detto ragazze sì sei punti ma sei punti fai pressa ad averli di vantaggio come fai pressa a perderli però io ho visto proprio un cambio di mentalità dalla scorsa in questo mese e quindi posso dire quello di squadra mio personale io sono sincera ho iniziato questa esperienza un po' in maniera difficoltosa che mi mettevo a letta e dicevo perché perché ho avuto qualche momento no che dicevo perché perché comunque dopo il lockdown io ero arrivata qua che non ero allenata come lo sono ora perché comunque non sapevo ancora cosa mi aspettava uno sai il lockdown ci ha messo un po' tutti in crisi l'anno scorso però sono arrivata qua che non ero al top e quindi per me la cosa la cosa più bella è stata vedere come che mi hanno conosciuto come atleta nel senso che io ho iniziato che ero un po' diciamo affaticata però tutte le mattine alle sette e mezza ero da sola in piscina ad allenarmi con la neve con la pioggia ero lì ero lì perché io volevo arrivare a parare bene a vincere con la mia squadra e questa per me è la più grande soddisfazione poi momenti belli per me ogni parata è stata una figata perché mi diverto troppo mi diverto troppo ricomincio sempre qua il primo di settembre ora in realtà torno qua i primi di luglio perché porto i ragazzini a fare le finale del campionato che non sono mai potuta andare con loro perché partivano in settimana e tornavano la settimana dopo io avevo i miei allenamenti e torno qua con loro poi le mie compagne vengono in Italia facciamo questo scambio perché dobbiamo venire vedere mangiare fare il bagno e poi loro torneranno qua verso il 20 e tornerò qua il primo di settembre e ricominciamo con i miei ragazzi con le mie compagne che sono state anche lì è stato uno scoprirsi che mi ha mi lascia qualcosa perché sai quando sei sempre con le tue stesse compagne da una vita c'è un po' sai quel giustificarti ma la macchia è così ma lei è così invece un cambiamento grosso qua per me è stato che sono arrivata in un modo e vado via in un altro perché loro mi hanno aiutato a migliorarmi in dettagli magari a smussare qualche cosa che non andava bene questa io loro le ringrazio sempre gliel'ho detto quindi no sono contenta ora mi serve un attimo riposarmi perché sono un filo a tappo ho fatto le valigie ieri in FaceTime con mia madre scleravo dicono no quanta roba mi sono portata ma perché perché però no adesso questa settimana con loro passa veloce che devo entrare in acqua voglio tirarmi rigori vedo ancora i miei compagni e poi torno a casa mi alleno perché non posso assolutamente non allenarmi mi riposo li vedo i miei amici i miei amici miei però sono contenta sono proprio non mi si è tolto un peso ma mi sento proprio fiera hai capito di tutto non solo di me proprio sì è stato proprio bello con Matilde Risso abbiamo concluso la nostra puntata la seconda puntata settimanale di questa settimana strana di Pallannuoto l'appuntamento è alla prossima settimana ci saranno le finaliste dello scudetto sia maschile che femminile raccoglieremo testimonianze sensazioni insomma in vista proprio di quel trofeo tanto ambito che è lo scudetto sia in campo maschile che in campo femminile che l'anno scorso purtroppo non si è assegnato io vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana vi ringrazio per essere stati qui con me ciao ciao